Il bricca fatto per sonno Special Special Faccio un dantemillatore fast Ok Ok Mando 3 di posto Mando Uno Due E tre Allora C'è l'inchiamo Effetto Libic Un effetto annullato Effetto Dante Uno da lui Rivelo lui Tiro un dado Siamo un bel dantemillatore Fai Devi Facciamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei Questa Evoco Pesco uno Peccato Tenete i soldi per Faccio un altro bel dantemillatore Un bel dantemillatore Si 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 Un bel dantemillatore Un bel dantemillatore No, lui no 1803 Una, due e tre Il bel dantemillatore Una, due Un bel dantemillatore Un bel dantemillatore Un bel dantemillatore Non le so, però la gioca, non le ho perchè sono le uniche che ho, se mi facevi il cambio mi copro, picciolo. Se va al cimitero che facevo? Evoco dall'extra un mostro bisognante, perché poi saranno 700 miliardi che ti fettano la vaccinazione negativa. Il ragazzo alternativo. Attivo l'effetto, il designo mostro l'effetto, ma il cimitero è evoco. Un occhio blu. Quanto sono? Un poico. Quanto oggi pensano? Un poico. Un poico. Un poico. Un poico. Un poico. Potrei coeli tra luce, potrei evocare dal cimitero, adulto di vivendo. Fai la foto. designs future. Quindi a faccio metà evocherò il mozzo, dall'extra... un pirla indifesivo. Quello stesso! Con gli effetti. certo a poco conosce munito ha visto più c'è mantenendo le condizioni zitto ser denis non parli che ha detto niente stavi parlando carte in mano dura sono rimossa attivo l'effetto aspetta pensa all'evocazione che corri troppo aspetta una volta per tu non questo è quello che non mi piace come bersaglio penso all'evocazione carta in mano ti effetto beatrice le taccio mando il rhino fetto il rhino mando farfa lo rimuovo fino all'entr fetto dance prendo cio l'ho messo No, no, torna a fuoco dove vuoi tu, lo metti in atto, pesco, grosso, vai, ma in face, ok? Si deve leggerla qui, sono giusto, 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 giusto. Ti è ferto... Ma che vuole? Tu vuoi fare quel bagno? Ando a Fenicinia Truffaiello non c'è qua Truffaiello non c'è Ma non c'è Non c'è giamai No qua, è un conca No, stavo raggiando il ca Ti vuoi due pezzarietti? Non c'è giamai No, devo impagare un po' Non so cosa sta dicendo Eh, no, ho fatto due pezzarietti Ti servono due pezzarietti? Prego! No picciato, dopo un po' di diallo c'è La scambiate lui Tra lei chi puoi Eh, attacco frate Attacco e muore Eh perché si, faccio 500 Dice che non ha avuto più bisogno Effetto Evoco upederino Attacco effetto pellegrino Scatto Pellegrino tocco Pesco uno Effetto suo Evoco serdanto Abbattilo Hai vinto Rimuovo uno e due Hai perso Chi affetto Vedo un benissimo volante Fatti effetto rimuovo No, rimuovo Vai Stoccati Il drago bianchino Ok Vabbè Siamo molto altellati Effetto distrutto Oh Tivo ogre Cerciamo Cliccio Ascolta Ma ti stavo uscito questo Evo 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 Cercini Ergo Edgo Evoco voi Minchia! Carta in mano, la conosco! Ehm, sì. Sì, ma fanno bene. Che sogno curioso! Evocatura ti effetto! Ciao! Buon Natale! Ciao, vai! Ah, vado a casa, non c'è stato in strada! Di già! Frate, stai perdendo il meglio dei duelli salienti! I duelli salienti ti stai perdendo! Scusate! Effetto Dante! Mando Cirr, effetto Rhino! Mando Sky! Siamo anche a te la famiglia! Non mancherà! Attacco e me lo prendo! No, aspetta! Vabbè, farò bene a prescindere! Se voglio sì! Attacco! 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 Vado in hand da due scala! Rimano attento! Sì! Per ora sì! Poi andrà al cimitare! Rimuovo! Addo in mano l'occhio blu! Ok! Inchia frate ne abbiamo a non finire! Ok! Quanto partiene a mano? Quattro! Tu pure assai! Attacco! Attacco l'effetto! Distrugga! Non posso essere bersaglio! Dai mostri no! Quanto? 3.000! E in damaggio te lo spompo di 500! Ma che caro! Che cos'è? Frate devi fare! Posso perdere 500! No! Calibri! Non posso andare a stare niente! Esatto! Sei in diretta mondiale! Stai attento! Ma solo se attacco a lui! Sì! C'è anche se attacco a lui che lo spompi! Sì sì! Quando voglio! Posso lo spompare quando voglio! Sia mio che tu! Attimo l'effetto di spurti! Eh vabbè! Finchiate! No! Eeeh! Eeeh! Penso! 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 Penso in attimo! Ti effetto in hand lo spompo di 500! Ah! Fino a lei! No! 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 Molto piano! Piano piano! Sì! Piano piano lo trotterevamo! Evoco zio Ciro che scoppia! Fape! Te evoco zio Dante! Entro in battle! Lo attacco con calibro merda! Me lo ho fatto! Ti va bene? Ma non va bene! No! Questo rimane sempre spompato! Attacco 2-5 e 1.3-5! Dopodichè puoi andare. Ma quanto sta lui attualmente? 20 euro o così, 25. Si evoca con 4. 3 o più, sì, minimo 3. Come? Non hai il link qua. Minimo 3 però, puoi fare altro. Vabbè, sì. Questo vuol chess. In end, pesca. Bello. Che si può fare di bello qua? Quella è una pietra fitusa, non si sa. Evoco Rhino. Normal. Evoco Special. Faccio... Bellixise. Attivo effetto. Spacco una mia carta che controllo e una tua. Sto tacciando. Ok. Metti in attacco. Attacco e me lo rubo. Lo metto qua. Attacco... 3.400 sono. 6.900 di Nika. No, minimo 1.100. Eri a qua 3.5. No, 3.5. No, ti ho fatto 3.5. Tu ci fai al contrario, forse. Vabbè, grazie. Hai 900 di vida. Vabbè, sì, ho congiunto. E frate, vediamo se c'è Barbar da qualche parte. No, è ancora qua. Eh, penso in main 2. Scopro. Vai. Baraccio. Faccio ascio. Andiamo all'alto? Quasi quasi. Quasi quasi, sì. Eh, dammelo stiamo. Eh, dammelo. Frate, dammi 150. Sono Secret di vecchia edizione. Eh, costano. Sì. Ma con po' la torta. Talia a buono. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Ci vanno giù. Talia a buono. Sono italiane. I tedeschi, vedi quanto stanno. Punta, punta. I big... Dove sono? Guarda, vediamo a quanto stanno. Lei già dove stanno? La mia mi vendevo a tempo fa. Pazzo. Vediamo a quanto stanno. Stanno, stanno. E ora vediamo. Finiamo sta bufonata. Stanno. Come ti fermesti? Il Dio della vita. Il Dio della vita. Il Dio della vita. Il Dio della vita. Ma io non capisco. Ci fai sotto al piano. Fai cosa? Frate, zitto. Poi te lo dico dopo. Aspetta. Questa è sotto al piano. Chi va, frate? E quanto c'è? E non lo fa mai. Vitto. Si vede. Non si fa. C'è una cosa più forte. Non si trompiare il busto. Noi. Aspetta. Dai. Che mi consigli ti sanno? No, frate. Non ti può consigliare già. Dennis, non puoi consigliare. Vai a sta nulla. No, no. Dennis. Vincio consigliare in partita in corso. Sì, non su facevi. Io sono consigliare. Io sono consigliare. Vai, vai. Vai, vai. Dai, quello è perfetto. Brutto Dennis. Comunque li stavo mettendo a prescindere. Sì. Fammi vedere. Stai zitto. Stai zitto. Non giochi. Non fai un cazzo. Zitto. Così ce l'ho... Io sono stato. Sì. Sì. Ora facciamo tipo una cosa. Che tipo sta mettendo con la sbagliata e faccio... No, te ne vai. Dai, frate. Aspetta. Che tempo c'è, Dennis? C'è poco. 10 minuti. 15 minuti. 15 minuti. 25 minuti. Ah, voglio il tempo. Sì, frate. Ti do un po' dopo. Chi ha vinto? Vabbè, tu hai vinto. Chi stai cacciando? Sì, vincendo. Sì, vincendo. Sì, vincendo. È cruciale. Eh, lo so. Ne dobbiamo mettere uno. Lo stiamo parlando con il prodio, Dario. Lo stiamo parlando con il prodio. Non credo che gli convenga lei. Io me lo accorlo da qui. Me lo accorlo io. È bellissimo il padre, mamma. Perché non lo accarecciai? È maldicissimo. Lo so, frate. Per me, per accarezzare il cane, la mia moglie è forse sale. Quindi... Lo ubaglio. Per evitare non lo accarecci. Lo ubaglio. Perché una volta non lo rinoccivo. Perché? Sì. Mamma, non lo faccia. Mi devo dire, ma non è tuo. No, è mio. Che, se non c'è d'ora, salve due. Ma sei un bordo. Ci sto pensando su una cosa, ma non c'è niente. E poi schifo. Non ho come evitarlo. Non c'è niente. Non c'è niente. Sto vedere due cose potrei mettere, ma... Questi, ma... Ma io sto giocando. Un po' questi. C'è niente. Quale? Fa le bustine maglie, in realtà, shocking. Diamo cosa a peschi, dai. Fermo, frate. Non interferisca col durello. No, assolutamente no. Di nuovo, tiriamo. Non tiriamo più. A cura. Mi hai dato per attaccarmi la scarpa senza... Vai, frate. Chi va? Amicizia. E che è successo? Scopi, scopi E possiamo vincere, dai! Allora Sei vinto? Guarda che caraccia! Fai una cosa, gratta la narazza antica e magari diventa una muta carica Allora, si può giocare Allora, si Ok, l'incurico Vai che ti faccio asce su baratto L'incurico bianco Prendo uno qualunque Uno qualunque Uno qualunque su bianco Ti prego, uno qualunque Uno qualunque fra questi Fra i tre? Sì, sì Ma diciamo, fra le varie art Ah, fra i vari art Ci vera solo una Poi così Detto questo Dai che vuoi pescare Quasi, quasi passo Quasi, pesco Drost and Baima in Ciglia Bravo, conservativo Non perché ho tutto legge sotto Ti è sicuro? Zitto! Ma mucca le cose strane Normal Che fruttava la maniera? Normal No Special Ok Ok Non scopri Ti ha scopri Se gli tiri una cosa Ti pompa E' un po' Dante Millatore Un Dante Millatore vuoi fare Che fevelle fu Dante Perché? Ti è fesco Mi immaginano lo stesso Non si pompa non va in difesa Vabbè frate Vabbè va bene così Attacco Mille quant'è? Vabbè come sei? Lo faccio andare in difesa in altri momenti Ma non mi metto i grandi Vado in andato di scarto Ma Non c'è la città E' la città E' la città E' la città E' la città Reliquiaria Passato Ma è per scarto? Ah si Riora per scarto Reliquia Reliquia Uno E' il tutto Cazzone Tem Luigi Se è bravo Da what? Non cambia un cazzo Rimane sempre troia Qualunque cosa faccia Direi distruzzo Allora Barattiamo Battiamo Allora StaCon i città Ed dimostDe Volano loro Non posso fare niente? Non è vero! Minchia, ti do un po' colpo di minchia e ti faccio ritornare sano. Dunque non può fare. Non so che faccia alcune cose. Frate, lui deve improvvisare. Deve fungere la cosa. Fungi, fungi. Fungi. Minchia sta rimuovendo, ce l'hai via nero. Che cazzo fai? Disse che ero mostrato la luce. Aspetta, dichiari effetti, cose. Effetti? Con risposte, magari. Targhetta? Hai piaciuzza? Riuscivo a stare a veiler. Quindi posso attaccare? No, perché ti devo avere effetti. Forse si. Dice se ne sono sei. Allora... Può caricare uno di questi effetti. Inoltre questo... Inoltre quest'altro non può attaccare per essere costato. Vedi se ha finito di caricare. Mi serviva il caricare. Penso di sì. Ho fatto pare. Quindi sì. Se mi vuoi aiutare... Ah vabbè giusto. Quanto ha? 2008? Sempre 2008. Ma l'ho annumentato. Mi ricordo che era 2007. Io... Bandito. Tributo. Evoco. Accusi. Aspetta, pensa all'evocazione. Evoco. Evoco. Che ora penso. Casi frettoloso. Un'altra... Questa dovevo capo... O dalla mano. For You End o Gravy? Il russante è il livello 12.000. E' un livello 111. Ci fai sta ritorco in stu cosa. Va bene me la collo. Un anno di febbre. Me l'accollo. Attivo l'effetto. Quello 12.000. Ma tu vuoti cattare? In un altro mondo. Aspetta, l'effetto di Pellegratuc che cos'è? E vabbè glielo puoi dire. Che puoi sapere? Se me lo distruggi ti scarto una carta alla mano, non posso aver bersagliato. Quanta carta per attacco? 1.800 per turno. Scarto una carta bia e pesco una. Quindi avrei anche un 2.800 in attacco con un po' a non fare ancora. Che dice, passo così o provate? Sì, guarda. Il passo così. Perché abbiamo fatto loro tutte queste mosse? Varebbe passare. Minchia da te. Un 2.800 in attacco. Attacco. Minchia. Attivo affetto. Però ti attivo pure questo. Grazie. Grazie. Così gli attacchi. Si si si. Funge, funge. Lo rimuovo tutto. Pezzi qui. Ma così è in pratica un attacco. Potrei attaccare diretto. No. Se l'umore non ha tkf. Eh mentre c'è il link 2. Dante c'è il link 3. Dante sono 1.2000 e 3. Dante riprendo Cir, Cir evocco? very. Un pederino? Ancora posso attaccare diretto Hai carta in mano Attacco a Dante A Dante, sicuro Aspetta, ti ha fatto un po' Muore, muore E tua boggi già attacca Ti ha fatto pellegrino Pellegrino tu Tanti sei visto TRL Scalto Pescovura Mi faccio la super mega Aspetta Pietruzza 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 L'altro Ma è così Perché Ce ne erano piccaci Buono Così facciamo un po' Mi risuco tutte Perché non gli passavano quelle di 5 cm di 500 a salire i buco non si sa vede da casa ero con normal ero con special ero con special a te a te a te a te a te a te Scatto! Spacco il vesto, fatti! Inchia vuole fare la chicca nuova! Facciamo il danno! Perfetto Dante, effetto Rhino! Evoco Zio Bielest! Trovo uno! Allora vediamo che si può fare! Entro in battle! Attacco e ti faccio 3000! Perché lui si pompa della metà e di mezzo è il tuo! Questa è la Kamehameha può essere! La Kamehameha faccio Goku con il tristinto! Attacco 200! Attacco di nuovo faccio la 3002! 6200! Perfetto metto in difesa attacco di nuovo! Sono 4500 perché rimane pompato del tuo! Quello grande! Quello grande! Eh! Goku cortosiello! Ehi! Ehi!